Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Cosa che proponga, halla gente che si parà. Ese è lo che ha faltato. Però per lo demás si me ha parecido abbastanza bene. Vale? E' da mucha caña a Luciano. No, 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 no. No, 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 no. Ya sta, pues venga, con nada. Recoged las cosas y hasta el próximo día. Oye, y Carmen, que los dados estaban bien, no estaban mal. No, 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 no. No, 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 no. No.